Qui abbiamo le persone, sta piovendo, grazie a Dio, incomincia a piovere di nuovo. Ci abbiamo anche tre persone qua e grazie a Dio un po' di frescume. Abbiamo anche persone qui che vanno e che vengono, persone che vanno e che vengono, che prendono la lista. Prendono la lista e se ne vanno di corsa, persone che vanno e che vengono continuamente. E poi altre persone che sono qui, c'è il nostro bravo amico, Alessandro, che andrà a prendere il pane, la verdura, le varie cose. Noi lo ringraziamo. Poi ci sono qui le persone che stanno cucinando, che cucinano, che sistemano. Abbiamo avuto un bel discorso, un bel dialogo tra di noi e ringraziamo il Signore. Abbiamo visto varie cose intorno alla divinità del Signore Gesù e proseguiamo adesso il nostro programma. Grazie a Dio.